Abbiamo appreso negli ultimi giorni che la situazione Covid sta migliorando in tutta Italia, naturalmente anche nel nostro territorio, ma per dare conto dei numeri precisi abbiamo raggiunto il direttore generale dell'ASL Mario Sanò. Allora, come siamo messi per quanto riguarda i ricoveri, i contagi, eccetera? Sì, finalmente la situazione si sta normalizzando, attualmente ad oggi contiamo 45 ricoverati nel nostro nosocomio, quindi chiaramente è una situazione più gestibile, ricordiamo abbiamo avuto purtroppo nei momenti critici un'affluenza rilevante con un numero di ricoverati che ha toccato anche le 150-160 unità, con anche l'appoggio esterno alle strutture private accreditate che hanno dato un contributo anche importante in questo senso. Quindi finalmente possiamo intravedere la soluzione di questo momento di alta criticità e quindi dobbiamo riorganizzarci tornando indietro per gestire quello che invece è il compito principale del nostro ospedale, quindi rivolto ovviamente a tutte le patologie. Allora, sappiamo che sono stati mesi ed anni veramente difficili anche per quanto riguarda le restrizioni, le limitazioni alla vita sociale, adesso possiamo riprendere ma sempre con cautela? Certamente, l'invito alla cautela e alle attenzioni rimane sempre valido, sappiamo che a livello nazionale probabilmente verrà decretata la fine dell'emergenza con la data del 31 marzo, con forse delle rimodulazioni per quanto riguarda le norme, per quanto riguarda il Green Pass, il Super Green Pass. Ciò non toglie che il nostro livello di attenzione deve rimanere con tutte quelle forme di precauzione, di salvaguardia di quello che è la salute propria e altrui. E quindi ci prepariamo a una, diciamo, normalità, ci si augura tutti, un ritorno a condizioni di normalità, fermo restando che il virus, sappiamo dei numeri, continua a circolare, nonostante ci sia appunto la gran parte della popolazione che è vaccinata, però abbiamo ancora a livello nazionale dei numeri significativi di contagi. Grazie al cielo queste infezioni, questi contagi non determinano le conseguenze così importanti, se non in alcuni casi che abbiamo invece riscontrato in epoca pre-vaccino. E quindi diciamo che è un cauto ottimismo, fermo restando appunto l'attenzione e l'appello a rimanere sempre corresponsabili in tutti gli atteggiamenti della nostra vita personale, professionale e familiare.